Sembra essere arrivata la schiarita nel centro-destra per la corsa a sindaco alle prossime elezioni comunali. Secondo quanto trapela da Roma, sarebbe caduta la riserva nei confronti di Alessandro Ghinelli, che dunque può essere considerato in via ufficiosa il candidato a sindaco per Arezzo, con il tentativo di ottenere dagli elettori il secondo mandato. Nel vertice a Roma, che si è tenuto con i partiti del centro-destra, Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, è arrivato il via libera, alla presenza dello stesso sindaco Ghinelli. Chiaramente decisiva la posizione della Lega, l'azionista di maggioranza del centro-destra, che si è allineata a Fratelli d'Italia, che fin da subito aveva espresso la sua preferenza per la riconferma di Ghinelli. Sembrano superate anche quelle che erano le perplessità di Forza Italia. Secondo indiscrezioni alla riunione romana c'era la senatrice e assessore Tiziana Nisini, Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, Felice Marizio Dettore per Forza Italia. Con i nomi già noti dunque di Farsetti, Ralli e Oraghinelli, si delinea la corsa per Palazzo Cavallo, in attesa anche di quelli che saranno gli altri candidati.